L'incontro di questa sera, organizzato dall'amministrazione comunale, ha visto partecipi molti rappresentanti della società civile sul tema della legalità. Quali sono le risposte che sono state date alla città? Io credo che stasera sia stata data alla città una risposta veramente forte e non solo una necessità buona ma anche una necessità cattiva. Il fatto che Mesagni sia stato il primo comune della provincia, forse l'unico, a istituire una specifica delega sul percorso della legalità e della sicurezza da affidare ad un assessore, credo che sia un fatto molto incomiabile, un segnale molto forte che vada apprezzato e che sarebbe il caso che molti altri comuni lo imitassero. E comunque stasera Mesagni ha detto una cosa importante. Mesagni ha detto che vuole vivere nella legalità e nella sicurezza. Sono due cose interdipendenti perché la sicurezza è direttamente alla legalità. Una comunità più alta è la cultura della legalità, più alto è il senso della sicurezza che abbia. Per cui credo che stasera Mesagni abbia fornito una risposta molto forte a tutti, non solamente alla città buona ma anche alla città cattiva. Noi abbiamo già proposto al comune due cose che vanno nelle direzioni sia dell'usura che del racket. Come antiracket avremo bisogno insieme al comune di dare vita ad un osservatorio sulla legalità che a Mesagni è stato costituito già da diversi anni fa che non è mai stato operativo. Bisogna riempirlo di contenuti e renderlo operativo. Per quanto riguarda l'usura invece dovremmo rivedere se siamo capaci a Mesagni, grazie anche all'intervento dell'amministrazione comunale di creare un consorzio FIDI che possa fornire quelle garanzie parimoniali richieste dalle banche e che molti commercianti, molti piccoli imprenditori non sono nella condizione di darla, per cui sono costretti a ricorrere all'usura. Al termine di questo incontro c'è da dire che è bello vedere tante realtà che si incontrano insieme. Il segreto della sicurezza non sta nell'invocare militarizzazioni o interventi di alta tecnologia investigativa. Il segreto della sicurezza sta nell'incontro di tante realtà che si mettono insieme e che cercano davvero di credere che impegnandosi a conoscere il territorio, a individuare aspetti positivi e negativi, a modificare dove c'è da modificare, a denunciare, ma tutto questo da fare insieme. Questa è la sicurezza che credo questa sera sta emergendo ed è bello e questo fa sicuramente pensare in maniera positiva. Una cosa, io faccio il cappellano in carcere, mi sono permesso di dire che in questa sicurezza da vivere insieme deve esserci anche la voce, le paure, le sofferenze, non solo di chi ha subito, ma anche di chi ha fatto il reato, perché è una comunità forte, una comunità sicura, è la comunità che è forte perché sa notificare le condanne, ma sa anche notificare l'annuncio di speranza con percorsi di riabilitazione.